ciao a tutti pochi giorni fa è stata pasqua non so quando uscirà questo video quindi cercherò di metterlo il più presto possibile in maniera che non sia già estate e vabbè questa piantina mi è stata regalata dalla mia nipotina sveva bellissima è un'echeveria adesso l'andrò a svasare mettendoci un vasetto un po più bello un po più grande e anche a lavare perché non so se si nota ma non è proprio il suo colore originale di solito tendono a colorare queste piante per renderle più accattivanti per per tirare attenzione in maniera che si comprino più facilmente quindi la passerò sotto l'acqua di solito è un colore che appena bagnato viene via e poi niente dimostrerò la differenza ecco fatto la pianta l'ho lavata c'è ancora un pochettino di residuo ma non sono riuscita a levarlo tutta avevo paura di rovinarla comunque ha cambiato aspetto adesso la rinvaso tolgo questo terriccio brutto e ce ne metto uno un po più idoneo guardate qua c'è ancora un po di verde vedrò di toglierlo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti adesso che ho tolto il terreno non idoneo vado a rinvasarla con un terreno più specifico ho preparato del terriccio con della sabbia della pietra pomice e dell'aprilo vulcanico grazie a tutti 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 tanto la mia nipotina sveva per avermi fatto questo regalo per Pasqua, non potevi scegliere piantina migliore. E niente, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani con un altro video. Ciao ciao!